Cari sorelle, cari fratelli in ascolto, un fraterno saluto, grazia, misericordia e pace ci siano date da Dio, Padre, dal Signore Gesù Cristo e dallo Spirito Santo. Amen. Dice il Signore per bocca del profeta Isaia, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Preghiamo. O Signore, tu ci permetti di incontrarti senza timore, nel senso che possiamo incontrarti nella libertà. Tu hai messo la tua mano e la tua proprietà su di noi. Questo non ci costringe a una schiavitù, ma ci rende invece perfettamente liberi, perché se siamo tuoi, nessun altro Signore può mettere la sua mano su di noi per dominarci. aiutaci in quest'ora di culto a comprendere che questo è un momento di libertà nella nostra vita. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Amen. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Nel nome del tuo Figliuolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figliuolo unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio perché fosse sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio, ma se ci amiamo gli uni gli altri Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo spirito e noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il figlio perché fosse il salvatore del mondo. Chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. In questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli si ha amati per primo. Sorelle e fratelli, Dio è amore, dice la nostra traduzione. Sarebbe forse meglio che lasciassimo la parola greca. Dio è agape. Nelle traduzioni in lingue moderne vedo che dappertutto agape è tradotto con la parola amore. Ma nella traduzione latina della Vulgata è scritto Deus caritas est. Dio è carità. Parola femminile. Come agape. Il predicato dal massimo significato espresso su Dio nella Bibbia è femminile. Qualche volta gli scritti biblici risentono un po' della scultura maschilista in cui sono maturati. Ma questa affermazione fondamentale usa un predicato al femminile. Dio è agape. Forse sembra irriverente tradurre carità, perché pensare che Dio è carità e quindi che fa l'elemosina mette noi nella situazione di mendicanti. Ma sorelle e fratelli, noi siamo mendicanti davanti a Dio. E non è neanche irriverente collegare l'idea dell'elemosina a Dio. Elemosina è una parola greca che deriva dal verbo eleein. E questo verbo è entrato in una delle invocazioni di maggiore significato nella liturgia cristiana antica e rimasta tale e quale anche in alcune liturgie moderne. Chirie e lei son. Signore, abbi pietà. È l'invocazione degli infelici che incontrano Gesù. Gesù e lei son me. Gesù, abbi pietà di me. Gesù, guarisci mi. Allora, non dobbiamo pensare che l'elemosina sia paternalista e umiliante perché potrebbe aspirare invece a un'assistenza istituzionale. Chiediamo a una persona bisognosa se è più umiliante ricevere l'elemosina oppure non ricevere nulla. Chirie e lei son. Gesù incontra facendo una sorta di elemosina, cioè un dono personale agli infelici. Dio, dunque, è agape, è amore, è carità. E quando pensiamo all'amore di Dio pensiamo innanzitutto che Dio dona. Il nostro testo sottolinea che Dio ci ha amati per primo e ci ha dato il suo figliuolo. Però noi sappiamo che i scolastici distinguono tra l'amore che dona e l'amore che vuole possedere. Anche noi qualche volta amiamo nel senso che desideriamo prendere possesso di qualcosa e invece siamo molto più resti all'amore che dona, all'amore oblativo, all'amore che offre. Ma noi abbiamo iniziato il nostro culto leggendo le parole che il profeta Isaia mette in bocca a Dio. Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho richiamato e ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Allora Dio offre, Dio offre i suoi doni, ma Dio mette anche la sua mano su di noi e dice Tu sei mio. Uno dei catechismi più vivaci dell'epoca della riforma, il catechismo di Heidelberg, inizia con queste parole. Il catechista dice al catecumeno, alla catecumena, qual è la tua consolazione in vita e in morte? E la domanda a cui il catechumeno, la catechumena deve rispondere riporta questa risposta. Il catechumeno deve studiare la mia consolazione è col corpo e con l'anima in vita, in morte, non sono mio. Ma appartengo al mio fedele Salvatore Gesù Cristo. Amare come Dio significa sapersi offrire, ma anche in un certo senso possedere, nel senso usato qualche volta dagli innamorati. Tu sei mio, mio, mio. Tu sei mia, mia, mia. Questa è un'immagine consolazione dell'amore di Dio e questa è consolazione non solo nelle prove della vita, ma, dice il catechismo di Heidelberg, in vita e in morte. Se l'amore è questo, se Dio è amore, se Dio è agape, il testo che abbiamo letto inizia dicendo «amiamoci gli uni gli altri». si intende «abbiamo amore, ma anche carità quando è necessario. Sappiamo anche fare l'elemosina quando è necessario. Il nostro tempo è pieno di persone che hanno bisogno di elemosina. Senz'altro non dobbiamo fare grossi sforzi per individuarne. E mentre nel decalogo, nella legge mosaica, l'unica cosa che possiamo fare come Dio è riposarci, i dieci comandamenti dicono «ricordati di santificare il sabato e di riposarti perché in sei giorni Dio ha compiuto l'opera sua e il settimo si è riposato, quindi riposati anche tu». E invece gli scritti giovannici, anche l'Evangelo, dicono che possiamo anche amare come Dio ha amato. Gesù dice «Io vi do un nuovo comandamento che vi amiate gli uni gli altri come vi ho amati e così amatevi anche gli uni gli altri». Il comandamento dell'amore è presente nella Torah. Ci invita amare anche gli stranieri ma Gesù dice «Il comandamento è nuovo perché vi dico amatevi come ho amato voi». La misura dell'amore che ci ha chiesta è questo paragone con l'amore di Gesù. L'Apostolo Paolo dice che l'amore o la carità è la più grande delle cose. Durano fede e speranza è carità ma la più grande è la carità perché dice ancora il nostro testo «Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo». «Chi non sa amare per primo non sa amare neanche per secondo». l'amore scoppia quando c'è un incontro in cui non si può dire «Io sono stato il primo a amare e tu sei stato il secondo» ma è un impulso spontaneo che quando è amore ispirato da Dio viene dallo Spirito Santo. È lo Spirito che ci spinge a questo amore che non calcola che non dice «Io sono stato il primo tu devi fare da secondo o tu sei stato il primo quindi io non posso fare a meno di risponderti». Dio ci ha amati per primo. Il nostro testo dice «Amatevi così anche voi». Se non sappiamo amare per primo Dio ci chiede per grazia con pazienza di saperlo amare in questo caso anche per secondi Lui ci ha amati per primo è difficile per noi essere primi anche nell'amare Dio e nell'amare il prossimo ma allora in questo caso sì possiamo sentirci chiamati a amare almeno per secondi sapendo che Dio ha aperto davanti a noi la porta dell'amore Amen del mio signor la carità surge sovrata in ogni età sui vertici del mondo e di giudizi che gli dà nessun fra gli uomini potrà scrutare nel profondo all'universo fa saper la sua grandezza al suo poter sui popoli e le genti dall'alta e provvida sua man la vita e il cibo sempre avranno le stirpi dei viventi quanto preziosa o sommo re la pietà che viene da te per tutti i tuoi fedeli se nell'angoscia e nel terror scampo cerchiamo in te signor il tuo poter ci sveli spandi su noi la tua bontà dissipa dubbi oscurità che ognor ci fan cadere fa la tua chiesa in te sperar sappia obbediente vigilar compiendo il tuo volere dopo questo inno ci raccogliamo in preghiera Dio nostro del tuo amore non c'è fine la tua carità dura sovrana in ogni età tu ci incontri come Signore che è proprietario della nostra vita ma appunto questo è per noi Evangelo per noi è messaggio per noi è stimolo per noi è vocazione ci chiedi di vivere la nostra esistenza umana sapendo che possiamo fare una cosa come te e questa cosa non è soltanto stare inattivi riposarci ma è invece possiamo amare come tu ci hai amati ci hai amati per primo con questo pensiero anche sappiamo che possiamo dirti con le parole che il tuo figliuolo ci ha insegnato padre nostro che sei nei cieli sei nei cieli ma sei anche vicino a noi perché i cieli tuoi non hanno confini padre nostro che sei accanto a noi sia santificato il tuo nome venga venga il tuo regno di pace e di amore la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo sia fatta quando non dipende da noi ma sia fatta soprattutto quando tu ci chiami e possiamo essere noi allora che facciamo la tua volontà dacci oggi il nostro pane quotidiano noi siamo mendicanti davanti a te anche per il pane rimettici i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori fa che noi possiamo incontrarci dicendoci gli uni gli altri Dio ha pietà di te per questo abbiamo pietà reciproca anche tra di noi non esporci alla tentazione alla tentazione dell'egoismo ma liberaci dal male tuo è il regno tua è la potenza tua è la gloria per sempre Amen ed ora fratelli e sorelle l'amore di Dio la grazia del nostro Signore Gesù Cristo la forza e i doni dello Spirito Santo siano con tutti ora e sempre Amen